Ciao, creatura. Io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di CosaI, A-S-M-A. Questa sera ti mostro tutti i regali di compleanno che ho ricevuto. Ho fatto un make-up spettrale con Viola, questa sera andava così. Come sempre ho ricevuto un po' di regali inaspettati. Un po' di regali che dici, ma che c'è? Un po' di regali che dici, erano nella mia wishlist da 15.000 anni. Quindi, yeah, finalmente qualcuno me l'ha regalato. Insomma, tante cosine. Allora, vado in un ordine sparso perché non c'è un prima o un dopo, non c'è un più bello o meno bello. Perché a modo loro sono tutti regali speciali. Il ragazzo di mia sorella mi ha regalato queste due tazzine da caffè, perché io non bevo minimamente il caffè, lui lo sappia. O forse non lo sapeva, ma chi lo sa comunque la gente continua a regalarmi tazzine, tazzine, tazzine. Tazzine di caffè che io non bevo. Quindi, aiutatemi a trovare un utilizzo differente, alternativo, perché comunque sono in base di tazzine. Perché a Natale una cugina mi aveva regalato delle tazzine da caffè che sono rimaste ancora dentro la confezione. Perché, però queste sarebbero anche solo da esporre, da esporre, da esporre, per la loro bellezza, particolarità. Specialmente mi vedrei bene a non avere questo caffè, ma offrirlo. Adesso te le mostro. Si vede un po' di riflesso. Allora, una ha un teschio con un ampulla con un liquido verde all'interno e c'è scritto veleno. Questa qua fa un po' riflesso la ring light. E l'altra invece c'è un coricino con un ampulla con un liquido rosso con scritto antidoto. Cioè, top, bellissime. Vabbè, dai, le apriamo. Il disegno è sia davanti, cioè non c'è un retro e un davanti. Perché il disegno c'è da entrambi. C'è sia qua che qua. Ecco, tutti i due lati. Quindi, belle. Bellissime, dai, super carine comunque. Ha detto, vabbè, ma anche se non bevi il caffè, sono belle. Sì, sì, su questo non ci piove. Ma infatti il caffè non è per me. È per gli ospiti. Bellissimo. Poi da Fraffo ho ricevuto dei croccantini, 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 croccantini. Per Sam, anche se non è il compleanno di Sam, perché il compleanno di Sam è il 4 agosto. Segnate la creatura. E per fargli auguri. Però, uno potrebbe pensare, ma che regalo è per la dea Eka dei croccantini per Sam? In realtà è un supporto economico che mi stai facendo, perché quei croccantini costano tantissimo, perché sono specifici per la sua dieta. Spoiler. Sta mangiando molto meno, ma è ancora pesa uguale a prima. Non so cosa devo fare. Vabbè, bisogna avere costanza in queste cose, quindi aspettiamo. Anche perché non si muove e sta a casa tutto il giorno, perché è una gatta casalinga e quindi non ha la ciclette. Lei dorme sul cestino, sopra una poltrona, perché è una gatta di casa. E quindi è più difficile perdere peso, no? Penso. Ma secondo me quest'estate, quando finalmente si detenerà di arrivare l'estate, perderà quei 3 kg di pelo che ha e dimagrirà così. Ma lei ha le ossa grosse, non è grassa, ricordiamolo. E vabbè, insomma, quindi è un sostegno economico, perché si è preso i croccantini per Sam, però quel mese lì io non li compro, ecco, più o meno. Quindi mi hai fatto risparmiare totte euro, che verranno spesi per comprare qualcosa, per fare qualche video. Io probabilmente ti porto con questi regali, ti porto un po' di video, perché proveremo delle cose. Ok. E poi mi ha, insieme ai croccantini, mi ha regalato questi fidget toy, che sono, per chi non lo sapesse, sono degli antistress. Secondo me questo è il mio preferito, che è al di là del colore, perché è rosso, giallo e marrone, che è un colore di abbinamento strano. Però mi piace la texture, perché, non lo so, è super piacevole al tatto. Gli altri hanno delle texture e colori diversi. C'è questo tipo tartarugato, come, sembra un tipo di ciottoli, 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 ciottoli. Arancione, marrone e verde. Poi c'è questo qua, con cui ho giocato ieri, che è rosa, bianco e azzurro, e anche questo ha, tipo, dei pallini, tutto strano, però al tatto mi piace quello lì, che basta. Questo rosa, giallo e verde, e questo qui, anche, mi piace, è azzurro, verde, viola, mi piace i colori, soprattutto, anche la texture, ma la texture che mi piace di più è questa, perché, non lo so, è qualcosa di speciane. E fa anche un suono, perché ci ho giocato di più, quindi questo è tutto morbido, invece gli altri sono tutti rigidi, perché non ci ho giocato tanto, li ho provati, diciamo. Però questo qua, cioè, me lo sono portato via, me lo sono messa in tasca, e, cioè, lo tengo così, sempre, e quindi, niente, è mio preferito, infatti, senti che è più morbido. Mi piace farci fare così e tenerlo in mano per la, la texture, la consistenza, non so come spiegarlo, eh. bello, grazie, top, fraffo, grazie mille, poi mia mamma mi ha regalato, le vitamine B12, che adesso andiamo a prendere insieme, proviamole insieme a questa, non te l'aspettavi. Sono fatte così, tipo le zigulite, una volta, ti ricordi, però queste sono virge, non sono caramelle, in teoria queste dovrebbero essere il gusto naturale di lampone, vediamo, perché io prendo tutte le medicine, che devono essere a pastiglia, che si mandano giù così intere, perché di solito hanno un sapore schifoso le medicine, non riesco a mandarle giù, perché mi vengono incunati di vomito, e infatti lo sciroppo per la tosse, di solito lo mando giù, poi inizio, già tipo, sto malissimo, sia per la consistenza che per il sapore, e quindi io, se devo prendere delle medicine, mi accerto sempre con tutti i medici, quando mi prescrivono qualcosa, che devono essere cose da mandare giù e via, anche se sono grosse, non importa, mi fa meno fastidio, che se hanno un sapore e una consistenza, ecco. Allora, hanno l'odore della tachipirina, ecco, vedi, mi hanno detto, ma mia mamma mi fa suono buonissime, e mi viene già fastidio. Non mi piacciono. Fortuna che sono piccoline, appena le morti, sembra gesso, esplodono, e si sciogliono subito, per fortuna il gusto fa... E sa quel gusto di chimico? È aspro, quindi si salva con l'aspro. Sembrano quelle caramelle tipo challenge, no? Quella è sour, no? E quindi fai finita che sia quella. Però c'è quel retro gusto di chimico, di medicina, sa, odore tipo tachipirina, non mi piace. Però dai, è stato abbastanza veloce come cosa, quindi... Magari le prenderò al mattino prima di fare colazione, così dopo butto giù i biscotti. Quindi, sì, farò così, perché devo prenderne una al giorno e finirle tutte. Io ovviamente prendo sempre le vitamine, adesso mi serve la B12. Prendevo la vitamina D, l'anno scorso, in inverno, ha un gusto schifosissimo, mamma mia, sa di rancido, mamma mia. E era in spray, non ti dico. Non ti dico, l'ho presa tipo una settimana dopo, mi è passata la voglia, anche se dopo ho continuato a prenderla. Però lo facevo proprio come se fosse una punizione, anche se fosse una punizione, orribile. Vabbè, anche tu hai questo problema, creatura, con i sapori. Invece, alcune persone hanno il problema del mandare giù le pastiglie, perché hanno tipo paura di soffocarsi. Va benissimo, mi soffoco. Piuttosto di avere consistenza e gusto schifoso, mi soffoco, non ti preoccupare. Va benissimo. Che ti mostro? Quello me lo vuoi tenere per la fine. Allora, sì, mostro questo alla mia migliore amica, Elena. Mi ha regalato una gonna nera, quella che volevo usare a Natale. Finalmente qualcuno me l'ha regalata. Giustamente, nero su nero. Può vedersi qualcosa? Secondo te? Legati. Comunque, è una semplicissima gonna non plissettata, però un po' sullo stile nera e che ho già in mente da questo inverno, gli outfit. Questa la posso mettere sia in estate che in inverno. In inverno avevo pensato quegli outfit con le calze, quelle, sai che sai tu uno? Quelle, quel pile dentro. E con la connellina, i maglionciotti sopra, magari anche qualche di queste camice qua che abbiamo preso a 50 centesimi. Anche questo l'ho preso a 50 centesimi tanto tempo fa, o a un euro. Adesso non mi ricordo esattamente, perché questa è proprio vecchia. Non so se si vede, ha una bella camicia. Stile un po' così, vampiresco, come dico io. E adesso mi piace metterci appunto questa collana. Non so se l'hai notato in altri video. Forse non ho fatto video. Ah, sì, avevo nel video del mercato di martedì. Avevo la camicia quella, maniche corte, con... Perché adesso è tornato il freddo sto col maglione. Quella con l'ananas e le palme. Avevo messo questa collanina che ho preso su jean l'anno scorso, credo. Vabbè, ho tempo fa comunque. L'avevo anche mostrato in qualche haul. E adesso infatti ho messo questa camicia qui, con questa collanina che sbucca fuori. Mi piace tantissimo per me. È super aesthetic. Non lo so cosa ne pensi, creatura. Comunque grazie per il like. Ancora non ti avevo ringraziato. Grazie per il like, per avermi seguita. E... E niente, questi sono gli outfit invernali che avevo pensato, no? Una bella camicetta con una bella... Questa collana qui o un'altra. E mi piace contrasto col bianco. E... Un maglioncino. E questa. Top. Se vuoi il maglioncino è oversized, ancora meglio. Perché appunto c'è la connellina femminile e poi il maglioncione è oversized. Bello. Il maglioncione del nonno. Top. Ci piace. Io ne ho un sacco presi al mercato. 3 euro. Top. E poi... Mi piace il suono che fa top. Ok? Top. 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 E poi... Invece in estate è più abbinabile. Anche semplicemente con le linee t-shirt. Ci sta, ecco. Senza calze. Via. Oppure con le parigine. Che ne ho tante. Che di quelle. E che vorrei prendermi anche. Quelle verdie nere. Arricche. Mi piacerebbero. Nere e grigie anche. Devo prendermele. Le parigine sono, per chi non lo sapesse, sono quelle calze tipo autoreggenti. Perché hanno l'elastico e stanno sopra il ginocchio. Quindi resta un pezzettino, diciamo, di gamba, di coscia. Senza niente, ecco. E quindi sono un po', sì, se è un po' coperta, però un po' sì, un po' no. Dipende. Perché sono freddolosa. Le ho così, parigine, anche con dove c'è l'elastico che va, diciamo, sulla coscia. Ecco, sopra il ginocchio. Che di, ha con le orecchie da gatto. Cioè non è un elastico uniforme. Cioè ha le orecchiette. Super cute quelle, bellissime. E niente, mi è venuto in mente uno story time. Ho degli story time da raccontarvi perché mi sono successi di ogni sto periodo, però non è questo il luogo. Questo è il video dei regali, quindi mi trattengo. Ok? Ho due story time. Beh, diciamo che uno è più un chit chat gossip e l'altro è uno story time. Però, vabbè, li vedrai, li farò più avanti perché adesso sto filmando venerdì. E questa sera vedrai questo video, quindi devo fare un po' in fretta, eh. Andiamo ai pezzi frapporti. Ah, c'è anche un altro regalo, aspetta. Mio papà non mi fa mai regali a Natale, compliano mai. Quest'anno mi sono rotta le balle di questa cosa. E allora quest'anno mi sono un po' di volto, non è giusto, ok? Gli ho detto, mi prendi lo zaino che ho visto da Action? Che poi non è che ho chiesto un telefono nuovo, cioè, costò 8 euro e 99. Però, meglio che niente, insomma. Bello, lo volevo troppo. L'avevo visto da Action, volevo comprarmelo e adesso appunto ho detto, vabbè, allora me lo regali tu per il compleanno. Cioè, ho speso meno di 10 euro, ecco, però è meglio che niente perché gli altri anni regalerà niente. Ecco. Ovviamente, come al solito, nero su nero, non so se si veda. Comunque è un mezza via tra un... Sembra uno zaino di quelli tipo sportivi, ecco. Però allo stesso tempo anche da viaggio. E ha tante tasche e avevo un zainetto che usavo anche per andare al mercato, però l'ho usato talmente tante volte che si è disintegrato, adesso è tutto rotto. E avevo pagato tipo 6 euro al mercato a Padova. Adesso ho questo, quindi adesso martedì, se ci sarà bel tempo, perché martedì scorso è aggrandinato, sai com'è? Ho detto, forse non lo fanno al mercato. Bello, l'ho già provato, ha le spalline molto morbide. E mi sembra anche molto capiente, perché ci dobbiamo mettere le cose che compriamo, no? È il pezzo forte. Lo dè il pezzo, 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 pezzo forte. Lo faccio vedere alla fine. Credo stiano usando proprio adesso un aspirapolvere. Perché sento, non so se è dentro le mie orecchie questo suono. Vabbè, fai evidente niente. White noise. Non ho più orecchie, mi si sono rotte tutte. Hello Gorgeous by Max & Moll Beauty Kid. 17 lip colors, quindi colori per labbra. 2 blush, 40 ombretti. E cos'è bro kit? Non lo so, un bro kit. 3 illuminanti, 4 eyeliner e 2 contour. E 4 applicatori, tipo i tool, i pennelli. Questo dobbiamo assolutamente swatcharla in un video a parte. Perché, cioè, secondo me merita. Praticamente, questa una volta andavano di moda queste make-up palette. Io mi ricordo di Puppa. Ce ne aveva una mia mamma quando ero piccola. Dove avevano tante cose. Perché adesso, di solito, quando compri la palette, è la palette ombretti, oppure la palette blush. Sono divise, no? Invece una volta andavano tanto di moda queste Puppa. Non è Puppa, ovviamente. Però, per farti, darti un'idea. Avevano, magari, delle forme carine. Non so, la cucinella. Non so, mi ricordo una cucinella. Non so, mia mamma forse aveva la cucinella. Non lo so, forma di rosa. Che li aprivi. Poi avevano tutti questi scompartimenti con diversi make-up. E poi sono andata da Action, appunto, a prendere lo zaino. E l'ho visto, quindi è di Action, questo. Però va bene, proviamolo. Si presenta così, all'interno. Bello. Andiamo un attimo ad aprire, dopo, però, lo apriamo bene in un video. Lo proviamo, anche, si guacciamo tutto quello che c'è da guacciare. Io ho già visto che ci sono anche i colori per le sopracciglia. Quello voglio provarlo assolutamente. Perché c'è proprio un colore uguale le mie. Quindi, c'è chi mi dice spesso, ma non ti fai le sopracciglia, ok? A me piacciono così chiare. Però, quello lì, è molto simile, quindi, al mio colore. Quindi, magari, potrei riempirle un po'. E poi, proveremo, lo swatchiamo in un video. Poi, sui C, decidiamo qual è un pretto, qual è un make-up completo per il viso fare. In base allo swatch che faremo negli video, no? E dopo, fare un video dove proviamo a fare sto make-up. Secondo me, top. Bellissimo. È un gofanetto nero lucido. Che devo ancora capire come si apre, onestamente. Poi, in teoria, si apre ancora di più. Poi, qua c'è un cassetto. Il gel eyeliner. Ce ne sono quattro. Tra cui, uno è color dorato. E l'altro è rame. Cioè, wow! Questi sono i rossetti. Non so come si... Da dove si estraccano. Devo un attimo. Dobbiamo guardare nel video. Poi... Comunque... Aperta è così. Però la vediamo bene in un video a parte. Perché adesso... Cioè, voglio dargli la giusta importanza. Perché secondo me... Ha del potenziale. Non so tu cosa ne pensi, creatura. Ma secondo me ha del potenziale questa palette. E poi... E poi... E poi... Una cosa che stava nella mia lista Amazon l'ha... A prendere polvere. Perché è lì da 300 anni. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei... Degli... Oh, 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 oh. Pinnarelli. Pinnarelli. pezzo forte questo perché questo non sta dentro insieme agli altri era fuori ed è il colore numero 0 che serve per sfumare perché sono devo ancora aprirli anche questi intatti, li apriamo insieme li swatchiamo insieme in un video e anche poi sui C decidiamo quale disegno colorare per primo ho tanti album da colorare ne scegliamo uno vi faccio scegliere sia l'album che il disegno mi piace perché ha il suo scrigno qua quindi restano tutti messi bene lo apro adesso proprio una volta con te un sacco di colori noto con con poca gioia che non c'è il rosso no il rosso però vabbè ci sono un botto di grigi poi ci sono i color carne quelli per fare proprio il tipo il manga e adesso sono senza occhiali però vedo anche un sacco di verdi guarda che belli più professionali questi perché intanto hanno la doppia punta base alcolica e hanno lo spritz non scherzo e quando passi sopra non si vedono le pennellate diciamo il colore resta tutto cioè dobbiamo provarlo in teoria è così resta tutto omogeneo e se ci passi sopra puoi fare tipo le ombreggiature quelle cose lì cioè io sto già volando e con queste cioè puoi passare anche sopra diversi colori e poi li puoi sfumare come le matite insomma ecco e quindi cioè io li ho visti nei video e ho detto no ti prego io li voglio cioè devo averli prima di morire per provarli perché cioè è proprio una magia questa magia nera e qui questo lo useremo nel video dello swatch qui abbiamo il tutti i colori che ci sono all'interno adesso non so quanti siano 60 colori 60 colori ok e qui abbiamo anche tutti i cartoncini e lo swatch c'è proprio scritto color swatch con il numero del del colore perché ogni penarello ha un codice ha un numero tipo questo è E364 sono anche in ordine più o meno di colori e quindi perché questa cosa molto professionale è questa da tenere sempre all'interno dei penarelli perché come nei rossetti no non è mai il colore che vedi sul rossetto sul penarello qui perché sulla carta come sulla pelle cambia colore no secondo me in generale tutte le persone vedono i colori un po' diversi non tutte le persone vedono i colori poi è difficile anche descrivere un colore no e capire se tu lo vedi nello stesso modo in cui lo vedo io e quella è anche una cosa bella secondo me e e niente ogni dopo andremo a colorare tutti non so se si vede andremo a colorare tutti i rettangolini con il rispettivo colore numero e così andiamo a provarli allo swatch proprio fatto io lo facevo ti ricordi così a cazzo su una invece qua proprio professionale te lo consigliano loro di fare e già fatto anche a computer ecco con i cartoncini cioè io sto volando mi dispiace solo che il colore numero zero che penso sia che penso sia trasparente che non lo so non ci stia all'interno della confezione insieme agli altri quindi ho paura di perderlo non so perché abbiano deciso di fare questa cosa no l'avevo incastrato dentro meglio lascia stare niente non ci sta ecco l'amica cosa che non vorrei perdere questo perché questi sono tutti messi via insieme e quindi è top ma questo qua devo stare attento a non perderlo a me questi regali sono piaciuti tantissimo non vedo l'ora di provarli insieme a te creatura penso che le idee che ti ho lanciato ti interessano quindi per andare a votare per quanto riguarda la palette trucchi per quanto riguarda i pennarelli ti invito a seguirmi sui c mi trovi sempre col nome ecati splendente e così potrai decidere insieme a tutte le altre creature le varie cose per i prossimi video poi vabbè ti ho anticipato già che ci saranno digit chat di gossip digit chat anche story time da spaccarsi da ridere perché è successo una cosa creatura mi mancava proprio questa nella mia lista no delle cose prima delle cose da fare prima di morire ecco perché cioè non era neanche nella mia lista tra l'altro è apparsa e appena è successo ho detto no questa la aggiungo nella mia lista perché solo a me è successo queste cose assurde e e quindi niente ti racconterò che magari qualcuno avrebbe preso questa cosa male invece io l'ho preso a sorridere perché è veramente una cosa che non pensavo potesse succedere quindi ho detto ok top 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 niente vabbè ti lascio con la curiosità prossima settimana probabilmente quello di gossip o questo usciranno come sempre fammi sapere quale regalo ti è piaciuto di più io ti auguro buonanotte 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 buon relax ciao creatura buonanotte buonanotte buonanotte